Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Il Senteco di Fano Sera in diretta Fano TV elenca le opere in cantiere in tutta la città il 7 maggio partiranno i lavori di asfaltatura in molte vie mentre finalmente verrà terminato l'interquartieri resta anche per la zona del mare La gestione della piscina Dini Salvalai passa in mano ad una società fanese oggi sono state aperte le buste ancora incerte invece l'apertura dell'impianto il prossimo lunedì Da Bruxelles alla Mongolia l'impresa benefica di un giovane fanese in partenza con un gruppo di amici Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale ieri sera eravate in tanti davvero come sempre a seguire la diretta Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Serri sindaco che ha fatto un po' il punto della situazione ha elencato i progetti i cantieri aperti e i progetti che sono in ballo per i prossimi mesi Vediamo la sintesi di questa puntata trasmessa ieri che comunque sarà ancora in replica in questi giorni qui sul canale 17 la sintesi dicevo di Simona Zonghetti Asfaltature, manutenzioni e arredo urbano entro la fine dell'anno verranno appaltati 38 progetti di opere pubbliche per un totale di 14 milioni di euro un investimento mai fatto prima dal comune di Fano grazie allo sblocco del patto di stabilità e al lavoro portato avanti in breve tempo dagli uffici tecnici comunali l'intervento più sostanzioso di 4 milioni sarà riservato alla cura e alla manutenzione delle strade e mercoledì sera durante il nostro programma Primo Cittadino il sindaco Seri ha annunciato la data in cui partiranno i lavori il 7 maggio partiranno le sei ditte che effettueranno le asfaltature nella città di Fani a breve poi verrà inaugurato il nuovo tratto degli interquartieri lungo circa un chilometro che collegherà Sant'Orso, San Cristoforo, Fano 2, Poderino e la zona trave l'infrastruttura è stata dotata di pista ciclabile e di percorso pedonale oltre che di barriere forno assorbenti in prossimità delle case e chi abita lì vicino vede che i lavori stanno procedendo hanno già chiuso alcune strade per proseguire con i lavori quindi stanno andando ininterrottamente e io penso essendo prudente che entro l'estate ci circoleranno le auto brutte notizie invece arrivano per le terme di Caregnano ecco la risposta del sindaco al nostro telespettatore che ha chiesto se verranno riaperte Devo rispondere di no perché l'azienda che le gestiva è fallita quindi quelle sono private, non sono pubbliche finché non arriverà una nuova società la vedo complicata la cosa però ripeto, è un'attività privata da parte nostra c'è tutta la disponibilità a renderci disponibili anche per quello che possiamo fare perché sono un servizio per il territorio anche una risorsa però allo stato attuale purtroppo la società che gestiva le terme è fallita sulla nuova scuola di Carrara Cucurano il sindaco ha annunciato che il 18 aprile uscirà il bando di gara entro l'anno dovrebbero partire i lavori che dovranno terminare nel 2018 per la difesa della costa invece è terminato da poco ripascimento delle scogliere di Gimarra mentre a Sassonia sono partiti i lavori che potrebbero risolvere in modo definitivo il problema dell'erosione marina che più volte ha creato danni ingenti sia ai residenti che agli operatori turistici e balneari lavoreranno fino a fine maggio perché poi c'è l'interruzione per l'estate perché creerebbe dei disagi anche alla qualità delle acque e faranno già un bel lavoro fino a maggio poi riprenderemo dopo il 15 settembre con l'ultima parte che rimarrà che è quella davanti a Viale Ruggeri e per metà ottobre i lavori saranno ultimati e visto l'approssimarsi della bella stagione l'amministrazione comunale interverrà non solo sul verde pubblico ma anche nel lungomare con interventi di illuminazione pubblica e di arredo urbano Sassonia necessita di un ripensamento e di una riqualificazione complessiva entro il fine maggio cambieremo tutti i lampioni a Sassonia li efficienteremo e saranno anche di qualità estetica migliore a Lido invece la tensostruttura che è stata distrutta dalla forza del vento per ora non verrà ripristinata la tensostruttura non la sistemiamo se ci sono 50 mila euro non ce li abbiamo diciamo la verità tanto io ho detto non bisogna dire le bugie lo scheletro? no adesso si si smontiamo no no lo mettiamo a posto invece sistemeremo abbiamo previsto di sistemare la parte dell'anfiteatro che c'è lì in mezzo al Lido si si tra il green bar che l'estate scorsa era stata smantellata la parte in legno si perché si era rovinata con un temporale e allora quella verrà ripristinata un ciclista di 55 anni di Pesaro Marcello Barucca è rimasto ferito in un incidente stradale è venuto questa mattina sulla strada provinciale 26 a Monbaroccio l'uomo finito contro il parabrezza di un furgone condotto da un 24enne di Nova Feltria ne avrà per almeno 30 giorni sul posto la polizia municipale di Pesaro la regione Marche finanzia il progetto di dialisi estiva anche per la prossima stagione turistica i nefropatici che sceglieranno le Marche per un soggiorno dal 1 giugno al 30 settembre avranno a disposizione i centri dialisi in prossimità dei principali luoghi di villeggiature in particolare sono coinvolti quelli delle località balneari come Fano, Pesaro, Senigallia, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche la polizia di Urbino ha denunciato 4 studenti e 3 studentesse dell'Ateneo locale di età compresa tra i 20 e 29 anni per il reato di disturbo al riposo delle persone il fatto risale alla notte fra sabato 19 e domenica 20 marzo quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di una donna che lamentava forti schiamazzi provenienti da un appartamento adiecente al suo in via Pian Severo giunti sul posto gli agenti hanno constatato che in effetti dall'abitazione segnalata provenivano musica ad altissimo volume e grida di persone che urlavano e cantavano gli occupanti, 7 studenti universitari di origine pugliese siciliana e sarda appartenenti a diversi Atenei stavano tenendo praticamente una festa con cibo e musica utilizzando un amplificatore collegato ad un computer e tutti quanti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e questa sera vi raccontiamo la storia di un fanese un fanese di 27 anni che vive e studia all'estero e che ha deciso insieme ad un gruppo di amici di intraprendere un viaggio di solidarietà vediamo quale un gruppo di amici ha deciso di mettersi in gioco per un'iniziativa di solidarietà quella di un viaggio in macchina fino in Mongolia attraverso montagne, laghi e steppe desolate solo per beneficenza questi giovani 27 anni tra cui il fanese Nicolò Fattori si sono conosciuti all'università e hanno preso parte come squadra ad eventi sportivi, sociali e di volontariato e sempre insieme hanno deciso di partecipare ad una grande sfida internazionale il Mongolia Charity Rally a dispetto del nome non si tratta di una vera e propria corsa le squadre partecipanti si impegnano ad acquistare e ad allestire alcuni veicoli per poi guidarli da Bruxelles fino alla capitale mongola Olaanba Tor qui i mezzi verranno donati direttamente alle popolazioni locali o utilizzati per portare a termine vari progetti umanitari per saperne di più sul progetto ci siamo collegati via Skype con Nicolò che in questo periodo vive in Inghilterra per concludere il dottorato in storia Allora Nicolò, da che cosa è nata l'idea di intraprendere questa iniziativa? L'idea è nata in un certo senso in maniera quasi del tutto casuale siamo un gruppo di ragazzi che si conoscono da quasi un decennio ormai ci siamo conosciuti all'università fuori lì e tra una cosa e un'altra siamo finiti tutti sparsi sparsi in giro per l'Europa io ad esempio adesso sono qua nella periferia di Londra e a un certo punto mi arriva una mail ma ci sarebbe questo progetto di beneficenza di portare una macchina da Bruxelles a Ulambator e perché no? è stata un po' un lampo a ciel sereno ma ho accettato subito il gruppo ha poi deciso di donare tutti i fondi che riusciranno a raccogliere prima e durante il viaggio a vivere la vita una Ollus che ha la sede in Veneto e che da vent'anni si occupa di portare serenità a un gruppo di ragazzi disabili sarà dunque un viaggio affascinante quanto impegnativo quello che gli aspetta perché l'avventura inizierà il 9 luglio prossimo e il viaggio potrebbe durare le in circa 4 settimane e mezzo davanti a loro si aprirà un percorso di quasi 14.000 km attraverso 10 stati e 2 continenti ecco ma sarà possibile seguirvi durante il percorso? noi cercheremo di postare aggiornamenti quanto più frequentemente possibile postare video, aggiornamenti sulle varie pagine social in un certo senso cercheremo di essere sia in viaggio che in grado di raccontare questo viaggio allora buon viaggio a te e tutti gli altri ragazzi in bocca al lupo screpi grazie Fano si conferma la capitale degli scacchi e ospita per il sesto anno consecutivo i campionati nazionali rapid lampo, semilampo caratterizzati da un gioco velocissimo e molto spettacolare i tornei si svolgeranno da venerdì 8 a domenica al Palagei di Marina dei Cesari domani sera la Proloco di Monbaroccio presenterà alla cittadinanza un video un video promozionale che verte soprattutto sul turismo realizzato in collaborazione con la nostra emittente Fano TV Scorci unici, grotte suggestive e un vero e proprio viaggio nel tempo grazie al Santuario del Beato Santi al Museo di Arte Sacra e quello della civiltà contadina con fedeli ricostruzioni di altri tempi curiosità e reperti archeologici tutto questo è a Monbaroccio un borgo medievale situato nelle colline marchigiane in grado di offrire ai turisti un percorso fra arte e cultura la sua origine non è stata ancora individuata esattamente così come il nome che la tradizione popolare attribuisce al Biroccio il mezzo di trasporto più usato in passato certo è che il periodo malatestiano segnò definitivamente l'assetto urbano di Monbaroccio con la costruzione delle mura fortificate esterne all'abitato che ancora oggi si presentano in gran parte ben conservate e alle quali appartiene il nucleo più antico della splendida Porta Maggiore per promuovere al meglio ciò che di più bello e di più buono offre Monbaroccio la locale Proloco ha deciso di realizzare questo video che è stato prodotto da RC Media in collaborazione con Fanu TV rappresenta tutto il nostro territorio, le nostre colline ma rappresenta anche il mare quindi abbiamo avuto una visione molto più ampia del territorio dove praticamente è un video per dimostrare a tutti chi visiterà questo video e per dire che siamo vicini al mare siamo nella collina allo stesso momento possono venire ad assaporare ad assaggiare i nostri prodotti dormire nei nostri bed and breakfast e allo stesso tempo poter andare al mare domani sera lo presentiamo alla città proprio in anteprima anche per capire se abbiamo dei suggerimenti prima di definire il tutto e di pubblicizzarlo quindi domani sera alle ore 21 nel teatro comunale presenteremo secondo me questo bellissimo video a tutta la cittadinanza di Monbaroccio ma non solo abbiamo invitato tutte le Proloco abbiamo invitato anche molte autorità a partecipare annuncerete anche gli eventi in programma ci sono delle novità a riguardo? sì ci sono tantissime novità la prima sarà il ripristino della festa di Santa Susanna a Villa Grande poi avremo un raduno di auto storiche e poi un susseguirsi di eventi che adesso non voglio svelare qui questa sera ma domani sera vi invito tutti a partecipare a Monbaroccio nel teatro comunale per vedere questo ricco pacchetto di eventi estivi sia culturali, enogastronomici e eventi sportivi in ogni stagione dell'anno in questo piccolo borgo ridente c'è uno scorcio che vi sorprenderà un dono ricco di bellezza pronto a farvi emozionare la gestione della piscina Dini Salvalai passa in mano ad una società fanese oggi sono state aperte le buste con piena soddisfazione dell'assessore allo sport Caterina Delbianco mentre la nuova gestione ha detto che forse sarà difficile per lunedì prossimo riaprire l'impianto sentiamo è una società di Fano ad avere la gestione sono soddisfatta come amministrazione ma anche come cittadina perché è una società che già conosce l'impianto che è un impianto che tutti conosciamo alla sua età e quindi speriamo di avere una bella avventura un in bocca al lupo alla società di Fano che ha tanto dato al nuoto fanese tempi tecnici domani mattina cominciamo immediatamente a portare il nostro materiale seppur provvisoriamente perché sappiamo che l'affidamento è provvisorio in attesa di eventuali ricorsi e la prima cosa che faremo domani mattina al lato dell'apertura è sistemare i parametri dell'acqua perché necessariamente l'acqua deve essere al top per poter permettere l'ingresso e la valnazione in tutta sicurezza dovremo essere operativi a breve salvo imprevisti ma spero che non ce ne siano una previsione per lunedì la possiamo fare? io voglio aprire prima di lunedì comunque diciamo lunedì e dunque vi terremo naturalmente informati ed aggiornati mercoledì prossimo inizia su Fano TV il nuovo programma del San Costanzo Show dedicato al riciclo è vero ma che isola è questa? ti ho po' che mica capisco più niente dove mi porti? ancora non hai capito che isola è? non ho capito niente di un po' che isola è? che non ci ho capito niente questa è un'isola ecologica? è l'isola ecologica? è giusto? è quella dell'altra volta? è l'isola ecologica? è l'isola ecologica? noi le vacanze le facciamo nell'isola ecologica? ma te le vacanze mi devi portarle sempre a Tali Mondizia? anche noi dobbiamo controllare che la gente faccia bene la raccolta differenziata da mercoledì 13 parte allora i riciclati speciali? sì, torniamo su Fano TV dopo un anno o due con quattro puntate che andranno per quattro mercoledì da mercoledì prossimo, mercoledì 13 aprile alle 21 su Fano TV che cosa potremmo vedere? ma sono quattro puntate diciamo di comunicazione ambientale nel senso che sono fatte in collaborazione con Aset e quindi noi siamo andati a casa degli utenti a vedere come effettuano la raccolta differenziata siamo andati a vedere le isole ecologiche siamo andati alla discarica insomma tutta una serie di servizi e una puntata di tre quarti d'ora circa credo si potrà imparare anche come effettuare nel modo migliore la raccolta differenziata però ridendo certo, è appunto l'intenzione nostra insegnare e migliorare la raccolta differenziata che già mi dicono sia di un ottimo livello a Fano però magari tanti sono indecisi non sanno dove buttare quello, quell'altro noi in queste quattro puntate ogni mercoledì alle 21 spieghiamo anche come effettuare una corretta raccolta differenziata guarda cosa abbiamo? cos'è? cosa abbiamo? è il tubo della doccia ecco, vedi un tubo della doccia aspetta, questo lo prendo io mi si è rotta ma questo dove si butta? non lo buttiamo nell'alluminio non credo nell'alluminio, no e questo io vado al centro di raccolta differenziata qui sono vari componenti c'è la gomma, guarda qua c'è la gomma, c'è l'alluminio, la plastica guarda ma io però l'ho vista arrivare con Rosa della Cecca che non vedo dove è andata? sì, Rosa, gli altri non ci sono perché stiamo effettuando gli ultimi ritocchi alla puntata siamo nel momento del montaggio Rosa della Cecca è qui ma non è presentabile no, non posso essere presentata perché ho tutte le bucce di patate la faccia perché mi fa bella per tornare a televisione a proposito dove ho dovuto adottare tutte le bucce? brava, le bucce è facile nell'umido le bucce nell'umido anche l'umido ma l'umido c'ho le patate già l'umido le bucce c'ho da mettere anche l'umido l'umido lo mangia le bucce della patate vanno nel bidone quello marrone dell'umido vabbè, da mercoledì ogni mercoledì alle 21 vi spieghiamo qualsiasi cosa vi aspettiamo sono tutti bravi alcuni alla mondezza tutti bravi e dunque appuntamento a mercoledì qui su Fano TV un importante riconoscimento è arrivato per l'azienda agraria Guerrieri di Piagge perché il Celso Bianchello del Metauro Superiore DOC 2015 ha ricevuto il premio Five Star Wines al concorso enologico internazionale Vinitali 2016 la giuria composta da professionisti di alto valore fama internazionale ha assegnato il bolino di riconoscimento solo ai vini che hanno raggiunto o superato una valutazione di 90 centesimi decretando così l'eccellenza del vino nella sua categoria sono in tutto 7 i vini marchigiani che hanno ottenuto questo punteggio uguale e quello dell'azienda Guerrieri è stato l'unico della provincia di Pesaro e Urbino era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona serata grazie per aver guardato il nostro canale